Allora innanzitutto benvenuti a Genova Rock Compilation numero 1 Allora ragazzi io vorrei intanto per incominciare conoscervi so che voi siete una vecchia conoscenza di Genova Rock e siete dei ragazzi che comunque insomma su Genova Rock mettete sempre posto aiutate anche questo progetto però vorrei sentire i vostri nomi uno per uno e cosa suonate così almeno anche la gente da casa vede insomma quello che state combinando Ciao Steve Batterista Ciao ragazzi Luca Bassista Ciao ragazzi Andrea Principe Biosound voce Ciao io sono Tony sono il chitarrista Allora ragazzi io volevo un attimino capire voi fate solo inediti, fate anche delle cover, chi scrive i pezzi come fate a tirare giù i pezzi inediti perché non è così semplice molti dicono io ho visto dei video vostri che sono proprio molto belli quindi volevo chiedere da chi nasce la musica, da chi nasce con le parole, il ritmo e tutto quanto soprattutto anche il genere e a me mi sembra un genere abbastanza pop che è abbastanza commerciabile però appunto volevo sentire anche da voi come nasce questo progetto insomma ecco Antonio, Antonio Pellegrini vedi che io qualche nome me lo ricordo ecco qua Antonio guarda noi sostanzialmente come appunto sai come avete visto facciamo sia cover che inediti gli inediti sostanzialmente nascono da brani, testo e musica che scrivo io e che poi vengono arrangiati dalla band quindi c'è diciamo una partenza di questo genere che poi viene però sviluppata insieme ai ragazzi per quanto riguarda le cover fondamentalmente si seguono un po' i gusti di tutti ma tendenzialmente stiamo su sound anni 70 che sono poi anche quelli che contraddistinguono i pezzi nostri poi si chiama Biosound probabilmente anche perché inediti e cover questo è il nome per questo l'avete io me lo sono un po' inventato ok va bene niente poi niente volevo sapere cosa vi ha spinto a partecipare a questa compilation che è uno che magari dice eh è una cazzata cioè non facciamola neanche perché eh molti potrebbero pensarla così no? che c'è sempre uno scopo di lucro dietro ma invece vorrei proprio sapere cosa vi ha spinto a partecipare a questa compilation parlo volentieri tra i denti ti dico che eh quando troviamo persone che credono fermamente nelle band piccole o grandi che fanno musica inedità noi crediamo autonomamente in quello che fanno perché un ente come Genova Rock che ci ha dato la possibilità di essere qua stasera a far ascoltare la nostra musica con il calore profuso da Genova Rock stesso è raro da trovare per cui non puoi non affezionarti a un progetto del genere a far sì che venga conosciuto a promulgarlo eccetera 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 perché sento scrivere molto spesso la diatriba ma io faccio inediti, io faccio cover, io fa... la musica è musica poi c'è musica in cui credi di più, musica in cui credi di meno e quando ti viene offerta la possibilità di fare un tipo di musica che per te è la tua immagine ciò che ti riflette di più perché non crederci, perché non farlo e perché non buttare il cuore all'ostacolo oltre all'ostacolo che è quello che abbiamo fatto noi stasera e vi ringraziamo tutti di averci dato questa possibilità per noi diciamo che questa non è una possibilità diciamo che nel cuore di Genova Rock rispetto ad altri magari siti che ci sono diciamo che promuoviamo tutta la musica non solo diciamo i personaggi di spicco di Genova no, cioè sono quelli che magari vanno a intervistare quelli proprio forti e grandi invece in realtà noi abbiamo fatto anche questa cosa per riuscire a fare intervistare anche, oppure intervistare, emergere gli emergenti perché emergenti vuol dire essere emergenti no, è inutile intervistare, è troppo facile intervistare sempre il VIP della situazione ma invece Genova Rock diciamo che promuove tutta la musica a volte abbiamo fatto delle cose per dei personaggi un pochettino più importanti però anche delle cose per personaggi che ancora devono uscire quindi niente, io più di questo insomma non serve cosa chiedervi anche perché vi ringrazio molto di aver partecipato non è da tutti i personaggi per partecipare a un concorso perché molti hanno paura appunto come vi dicevo prima di affrontare una lealtà diversa delle case discografiche, delle etichette, di queste cose qua questa cosa qua è una cosa che facciamo noi gratuitamente e non è proprio, non è da tutti insomma quindi io vi ringrazio tantissimo ragazzi e ci vediamo presto ciao ragazzi, ciao grazie mille grazie mille a voi 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 grazie mille a voi